Luna di October non è solamente la luna di flor, sino anche la luna che celebra il Dio di Maestro. Invece di enfocarsi in un solo giorno, il governo opta per declarare la luna come una luna di celebrazione e la dedicazione per la parte dell'anticlasso per gli educati. Questo pensamento ha messo in mente e il mandatario ha visitato varie scuole e le diano per entregar e appell di insegnanza nel docente. Papi e quei alumno non riberro al di non vener off e frau, degnambida e poi invitare il Maestro non per partecipare attivamente nel taller e nel corso non con l'ultimo lugar in terra e luna. Maestro non ha messo e maestro non ha messo a sinadure, specialmente e cleiter scuole anche e che arrivano azzurto come, con gli e occulti a noi, anche a sinadure e ancora c'è ragione che non ci ripara il lavoro con il Dio di Maria. Con questo è bello, rende riuscita a riuscita a riuscita e a lavorare con il nostro Dio di Maria. E' vero, è vero, è vero, è vero e è vero. E' vero, è vero, è vero. conoscere i bai, anche in Gitalan conoscere i bai, anche noi come scuola ci siamo conosciuti e mi sono sorpreso anche per il mio team, perché abbiamo fatto il giorno di insegnanza, quindi in ottobre è l'unica. Mi ha cominciato un workshop di Conscious Discipline, in cui abbiamo scuola, abbiamo due anni che abbiamo lavorato con Conscious Discipline e abbiamo tre maestri per partecipare, anche noi, per avere più conoscere i Conscious Discipline. Il nostro programma è stato di toccare i bai, quindi ci siamo molto interessati per fare un'explicazione e ciò che abbiamo fatto con un'esposizione di Spelsale di Bai, di toccare i bai, di terra e di l'aria. E non lo solo enfatizzare, abbiamo molto interessato, e ciò che abbiamo fatto con un'esposizione di Bai e Bai e Bai. Il governo è molto orgoglioso di tutto il esforzo di scuola per non cercare solo la luna di grande, ma anche per l'educare la mia scuola ultima del tema di educazione dell'era Novoaki. No sta a celebrare una luna di insegnanza, una luna, sicuramente, con molti diversi attività. No stiamo, per me, attività oficiale di Conscious Discipline, però, circa su tra, no stiamo il 15 di ottobre e il 6 di Dio Mondiale di Maestro. Sicuramente non si pensi che la maniera del anno non si celebrare qui, non si dono il riconoscimento che è un lavoro molto importante e, anche, a la vez, challenging che sia come un maestro. e non c'è sufficiente tempo di un giorno per portare l'attenzione per il lavoro qui, non? Quindi, questo è stimolato per non ascenderci la luna qui, il giorno, la celebrazione, per questa luna, llenare con informazioni valiose per il nostro maestro, però, anche, un'attenzione speciale per il lavoro e per l'importanza di insegnarciare. di un'attenzione speciale, perché è un momento in cui la scuola non può dare un'applicazione ai nostri studenti che non può fare. Questo è il valore di insegnamento, è il valore della nostra insegnanza e che è un diritto fondamentale. Nel momento in cui la nostra nasce, ma, chiaro, la nostra nostra nasce con il diritto di avere un'educazione. Dialuna Award, il 5 di ottobre, il Dio Mondiale di Maestro per qualsiasi disegnano tur, turco sbom, arriva i dia anche.